È un principio universale della vita, un diritto umano fondamentale. Tutti devono avere accesso a sufficienti alimenti nutrienti, diversificati, sicuri e a prezzi convenienti. Eppure la fame persiste a causa di conflitti armati, shock climatici, disuguaglianze e crisi economiche. Oltre 2,8 miliardi di persone non possono permettersi un'alimentazione nutriente e l'obesità è in aumento in tutto il mondo. Una maggiore varietà di alimenti nutrienti dovrebbe essere disponibile nei nostri campi, nei nostri mari, nei nostri mercati e sulla nostra tavola, affinché tutti possano trarne il beneficio. Tutto inizia dalla natura. Un viaggio dai nostri produttori e alle nostre tavole, che celebrano le nostre identità culturali. Giornata mondiale dell'alimentazione. Il cibo è un diritto, ogni singolo giorno, per tutti, ovunque. Senza lasciare nessuno indietro.